Buongiorno, buongiorno a tutti, e questo è il strano di oggi, è un strano bellissimo che mi fa schizzare il sangue dalle vie, ascoltate, bellissimo. Cinque minuti e un gesto partita, portata al mondo, diria, da me. Cinque minuti per voi, poi anche tu partirai. Io non so che darei per parlarti, ma tu non mi ascolti già, più niente mai, per fermarti. Quattro minuti per voi, quanto dolore mi dai. Io non so che farei per mangiarti, ma tu già non sei più via, tu sei già via lontano. Aspetta, aspetta, ma dove vai? E' bellissimo che sopra. Solo un minuto e un gesto partita, portata al mondo, diria, da me. Solo un minuto tra voi, guarda a chi addio ti dai. Nei tuoi rocci non c'è un sorriso per me, solo tre torfani di andartene, amore. Chiamano a me, sei tu. Va e non portarti mai più. Quanto cielo fra noi e la fine, anche se mi ha giurato che tu ritornerai da me. Fuggi, 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 non tornerai. Che bello! Fuggi, fuggi, non tornerai. Fuggi, fuggi, non tornerai. E questo è un bellissimo brano che ho rispondato di Maurizio Cipani. Ciao!